La Guardia Costiera di Tripoli ha tratto in salvo 290 migranti a largo delle coste libiche in due diverse operazioni. Una terza imbarcazione con 58 persone a bordo ha raggiunto invece l'isola di Lampedusa. A maggio gli sbarchi sono ripresi a ritmo sostenuto, almeno 700 i migranti arrivati dall'inizio del mese sulle coste italiane sulle oltre 1.400 persone approdate dall'inizio dell'anno, mentre sono oltre 500 i migranti e i rifugiati che hanno perso la vita nel Mediterraneo, mentre tentavano di raggiungere l'Europa, secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Immigrazioni, la metà di quasi 1000 decessi di migranti registrati a livello mondiale.